Il Piemonte si candida per la gestione del vaccino Covid a livello nazionale. Lo ha annunciato il presidente della regione Piemonte Alberto Cirio insieme al sindaco di Casale Monferrato Federico Riboldi. Il commissario Alcuri ha comunicato a tutte le regioni d'Italia di fare delle proposte, di dare delle indicazioni per quanto riguarda la possibilità di conservare, stoccare e soprattutto trasportare questo vaccino Covid che noi attendiamo e che il commissario ci dice poter essere nelle disponibilità dell'Italia già da fine gennaio 2021. Per questa ragione noi abbiamo predisposto un dossier insieme ai farmacisti perché la rete delle farmacie è fondamentale insieme alla protezione civile per poter utilizzare le strutture come luoghi di vaccinazione non appena il vaccino sarà disponibile ma abbiamo coinvolto anche un'eccellenza del Piemonte che è l'eccellenza della catena del freddo. Il Piemonte ha tanta grande capacità industriale l'industria del freddo che ha il suo cuore in Casale Monferrato ma che si estende in tutte le province del Piemonte può essere un elemento fondamentale per dare un servizio al nostro paese e nello stesso tempo per creare anche un'opportunità di sviluppo lavorativo per la nostra industria. Il Piemonte si propone per occuparsi di tutta la gestione del vaccino anti-Covid, dallo stoccaggio alla distribuzione. Grazie. 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 Grazie.